ciao a tutti e benvenuti a questo appuntamento settimanale con la videoanalisi partiamo subito dall'eurodollaro dove continua quella figura che vi evidenziavo la scorsa settimana sotto forma di potenziale testa spalle ribassista secondo me che potrebbe portare da prima 1.19 poi magari anche un po più in giù il cambio questa era neppla in rotta è vero che c'è stato ora un movimento di pullback allora sopra quest'area sopra 1.20 e 60 si ritorna nell'ambiente di prima il target tornano a essere prima 1.21 e 60 e poi 1.23 e mezzo sotto questo livello mantiene il testa spalle ribassista che ha un primo target in area 1.19 e un secondo target in quell'area 1.17 e mezzo intorno a quei valori forse un approfondimento anche qua sotto che è il target naturale del movimento di testa spalle quindi forza del dollaro abbastanza conclamata durante la settimana che si è vista bene però soprattutto su un cambio che è un cambio particolare che è quello tra dollaro americano e yen giapponese dopo che c'è stato un trend ribassista durato davvero a lungo c'è stata con la scorsa settimana praticamente una bella inversione a rialzo con cambiamento proprio di inversione di tendenza vedete queste due linee praticamente parallele che potevano essere tracciate e che in qualche modo poi sono state negate dal mercato adesso siamo anche sopra questo livello se si dovesse superare questa soglia di prezzo che è più o meno quella attuale ci potrebbe essere anche un ulteriore approfondimento 106 pare un livello importante perché come vedete ha già lavorato molte volte quindi insomma attendiamo qui dollaro yen per capire dove vorrà in qualche modo dirigersi il mercato passiamo però quindi viste le valute anche a ragionare sulle commodities è stata una settimana particolare abbiamo visto un oro particolarmente debole nonostante il ritorno sopra 1800 col finire della settimana però attenzione perché un test rimane sempre probabile di questi minimi intorno a 1.760 rimane questo trading range di 200 dollari 1.760 1.965 siamo 1.065 siamo intorno a questi valori sembrerebbe essere questo il trading range attuale uscendo da questi due livelli si avrà un trend vero ma già questo trading range ampio consente dell'operatività è stata anche una settimana interessante per un'altra commodity che è il petrolio che come avete visto sta volando verso l'alto come ho già avuto modo di segnalare secondo me il target price rimane questo in area 59 70 questo massimo relativo abbiamo superato quello precedente intorno al quale è stata fatta questa congestione che è durata alcune sedute c'è ancora slancio su questa materia prima stiamo a vedere che cosa potrà succedere è stato però anche un momento interessante per l'argento che ci sta raccontando che adesso qui dopo un periodo di crescita siamo con volatilità in aumento al pieno interno di un trading range che vede i minimi in area 22 i massimi praticamente in area 30 lo vedete bene qui e poi ci sono tutti dei livelli intermedi molto importanti guardate quante volte ha lavorato il prezzo 26 guardate quante volte ha lavorato diciamo l'area 24 quindi quello che si può supporre vedete anche qui 26 all'opera quello che si può supporre è che praticamente area 26 sia uno spartiacque notevole tra virgolette tra l'altro esatta mediana di questo canale quindi insomma una situazione davvero interessante anche quella che sta evolvendosi sull'argento in trading range c'è da un po di tempo anche il rame il trading range del rame è tra 3 e 50 praticamente è poco sopra 3 70 siamo in area 3 72 da quelle parti eccolo qui e quindi come vediamo adesso con questa settimana c'è stato di nuovo il movimento che lo sembra sostenere nuovamente ancora verso l'alto andiamo a vedere poi gli indici di borsa anche qui una settimana interessante con tutti gli indici americani protagonisti di nuovi massimi storici quindi un mercato che sta di nuovo lasciando la fase di incertezza per tornare ad avere sicurezze e a rialzo e con rotazione e prima di affrontare diciamo così l'analisi sugli indici vorrei farvi vedere alcune cose diciamo particolari perché perché se noi guardiamo a quella che è la situazione dell'ultima seduta vediamo che questa è stata un po contrastata sul mercato americano ma non dobbiamo perdere di vista la possibilità di dare un'occhiata a quella che è stata l'ultima settimana quindi diciamo così vedete l'ultima settimana ci racconta di un mercato che è cresciuto in maniera buona in maniera uniforme e anche di quella che è la situazione dall'inizio dell'anno perché dall'inizio dell'anno come vedete la situazione è di nuovo piuttosto contrastata ma anche nel frattempo un po equilibrata quindi che cosa è successo che dopo alcune sedute che noi avevamo visto così di nuovo tornare in auge il nasdaq in questo momento stante l'andamento delle ultime sedute lo stesso nasdaq è tornato a essere il listino meno forte e questa rotazione settoriale diciamo così che ci racconta di un'economia che che potrebbe anche essere vista in ripresa in maniera più coesa è ben sancita soprattutto dall'andamento del russell 2000 cioè quello dei titoli di piccola capitalizzazione che anche qui ha avuto uno sprint feroce ed è andato a farsi un nuovo massimo questa volta si è mossa anche l'europa e l'europa si è mossa forse una volta tanto anche per via di notizie che arrivano dall'italia perché draghi risulta essere un elemento trainante ecco qui il movimento del dax che torna sopra i 14 mila punti siamo praticamente sui massimi storici ed è su livelli importantissimi ma molto interessante anche il movimento che spinge a nuovi massimi relativi l'euro stock 50 che come vedete e lo segnalerò diciamo ancora per un po credo ha in questi 3600 punti lo spartiacque tra l'era pre covid e l'era post covid e qui c'è la situazione più importante perché sembra adesso che noi abbiamo fatto finalmente anche una chiusura convincente di settimana al di sopra di questo livello ma staremo a vedere buon ultimo il nostro indice perché buon ultimo perché lo analizziamo sempre alla fine per motivi di interesse anche qui noi siamo proprio lì borderline con l'era pre covid manca ancora forse un pezzettino c'è stato un test siamo un pochino tornati indietro ma sarà molto importante riuscire a tornare lì da dove arriva tutta questa forza beh tutta questa forza arriva da dal consenso che sta un po venendo meno il consenso short sul nostro paese e quindi qualcuno si ricopre anche prima che mario draghi sciolga la riserva poi vedremo ovviamente i più acquistati sono stati dei titoli su cui il consenso short era più ampio in assenza di draghi cioè soprattutto le banche diciamo così le banche che sono state protagoniste e hanno fatto diciamo così ma hanno motivato questo buon rialzo allora passiamo ai titoli e prima di tutto vi faccio vedere in onore diciamo così a questa potenziale rotazione settoriale due interessanti potenziali titoli americani chissà sono del settore immobiliare verso il quale ci potrebbe essere un po di rotazione guardate qua siamo sul titolo phm allora se dovesse esserci un movimento che dovesse portare questo titolo sopra 50 sopra 50 cifra piena sarebbe interessante andare a sperimentare nuovi livelli molto particolari ho scelto apposta due titoli un po fuori diciamo così dalla lente normale per come dire andare un pochino a spaziare in altri settori sempre nello stesso segmento ecco un titolo che dopo aver visto un massimo il recupero adesso sono e da mesi in stand by laterale molto vicino a una soglia particolarmente interessante di prezzo andiamo a vederla in dollari siamo intorno ai 30 dollari e 60 un superamento di questa soglia potrebbe far pensare che potrebbe essere raggiunto il precedente massimo relativo che sarebbe da porre come target quindi due titoli interessanti chissà se potessero in qualche modo accattivarci andiamo però un attimo a vedere queste sono le immagini di ciò che io vi ho trasmesso in settimana cioè alcuni titoli una decina circa che secondo me erano quelli come dire che avevano i grafici più interessanti che avevano fatto dei breakout che avevano creato delle situazioni particolari e poi bisogna dirlo sono anche quelli che si sono un po mossi nell'arco delle ultime sedute allora andiamo un pochino a vederli partiamo da azimut che forse è stato diciamo uno di quelli che si erano mossi con convinzione prima è andato ancora su a fare un bel movimento forse non è il più bello di tutti ma senz'altro è un grafico convincente guardate invece amplifon come si è portato dopo il primo feroce forte breakout qui a incontrare ora un'area di resistenza sopra questo livello farebbe un altro breakout quindi livello assolutamente importante andiamo a vederne altri che sono tra quelli che vi avevo segnalato guardate a 2a bel breakout ancora diciamo in essere e sedute dopo sedute è andato ancora migliorando andiamo a vedere anche alcune banche allora guardiamo la popolare milano che forse al grafico come dire il breakout è stato potente forse è quello che ha avuto il ritorno però con la seduta più incerta diciamo così in ogni caso sopra 2 fa abbastanza impressione rispetto all'andamento recente più convincente il movimento di intesa san paolo devo dire che intesa si è mossa molto bene e si è portata sopra 2 e ho sempre detto c'è un mondo bancario con intesa sotto 2 e un altro con intesa sopra 2 molto bene fine eco che rompe il massimo precedente fa un movimento molto molto ampio direi che tra le banche bisogna però segnalare anche unicredit che non è sui massimi gli altri titoli si trovano nei pressi di questo livello però ha rotto bene con buona con buon contesto e anche con buoni volumi quella resistenza intermedia che si era posta da quando era stato annunciato il cambio al vertice e poi si comincia a chiacchierare della potenziale fusione con montepaschi rimanendo in ambito bancario andrà a vedere medio banca il breakout qui è stato forte ce n'è stato uno all'inizio di quell'area poco sopra 7 santa che rappresentava il trading range a breve breakout anche del massimo precedente e breakout pure degli 8 euro quindi tre breakout praticamente consecutivi per medio banca che ha fatto un ottimo movimento andando un po fuori ma rimanendo sempre nel settore finanziario molto buono il movimento di generali davvero interessante questo movimento ve l'avevo già segnalato sopra i 14 e 60 in passato poi il mercato è tornato indietro questa volta è stato più prepotente il movimento molto buono anche a me piace tantissimo il movimento di post italiane lo vedete qui il breakout dei 9 euro massimi post covid insomma situazione interessante e poi vi mostro quello che secondo me è il titolo diciamo più interessante manca una i nel ticker eccolo qua anche se nell'ultima seduta forse diciamo così ci ha detto che magari c'è una pausa di riflessione però questo movimento di cnh ha dato anche i dati ha dato anche i numeri è molto buono quindi un quadro che è favorevole ovviamente i mercati non finiranno mai di stupirci quindi magari potranno esserci dei pullback chissà staremo a vedere però mi sembra che i grafici più interessanti al momento possano essere questi ringrazio tutti vi do appuntamento alla prossima ciao